E a tutti coloro che per puro cambio... Regole, rispetto per l'ambiente, rifugi e amici. Una rappresentazione portata in scena dagli alunni della terza I della scuola primaria Gianni Rodari di Barletta come manifestazione conclusiva di un lungo percorso avviato con l'obiettivo di educare i bambini al rispetto dell'ambiente e degli animali. È un modo interessante di fare lezioni. Scegliamo il campo con una vera progettazione. Quello che hanno fatto i nostri alunni è stato di mettere in campo per il primo quadrimestre un lavoro di questa portata. Cioè ne abbiamo parlato dell'ambiente, abbiamo parlato del rispetto degli animali randagi e quindi è centrato sulle regole rispetto della natura e rifugi amici. Un gioco di parole per intendere come il rispetto dell'ambiente è determinante nella nostra società odierna e soprattutto il rispetto degli animali in senso generale. Non solo teoria ma anche tanta pratica. Gli alunni nella fase di apprendimento delle varie discipline hanno avuto modo di vivere molte esperienze sul campo. Abbiamo portato i bambini presso una pensione per cani e presso colonie feline. Quindi abbiamo fatto un discorso a tutto raggio, dando la possibilità di vivere concretamente, non solo in classe ma in un contesto diverso, tutta questa realtà. Loro sono entusiasmati, ci sono entusiasmati ma lo siamo anche noi insegnanti perché abbiamo realizzato qualcosa di unico, veramente unico e molto particolare. Grazie. 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 Grazie.